divenendo un punto di riferimento per i giovani. Siamo andati a cercarli nelle piazze e nelle strade del centro, nelle sale giochi sempre affollate, dove regna la massima concentrazione. Poi siamo andati alla galleria di Corso Vittorio Emanuele, dove si esibiscono i virtuosi dello skateboard, e abbiamo chiesto un po' in giro quali sono i luoghi più frequentati dai giovani, quali sono i loro gusti, dove vanno quando escono. Dove vanno all'istono, non perché la musica è buona, ma perché ci sono le donne. A Milano si va prevalentemente per comprare giacche, scarpe, penso, almeno noi, dalle nostre parti, poi gli altri non lo so. Poi andiamo in giro a divertirci. E lo stesso vale per me, a volte però siamo in mezzo alla strada, visto che non abbiamo una casa dove andare. Cosa che consiglio a tutti quelli che vengono a Milano è di andare a casa di Sofia. Noi ragazzi del Manzoni ci troviamo sempre a casa dei viaggi. Io quando vengo a Milano vengo a farmi giri per i negozi e così. Mi piace Brera perché per le sue regioni storiche i grandissimi scapigliati vivevano lì, insomma poi ti maledetti e tutto così. E mi diverto. In zona Brera così, poi si va su Navigli e poi si va a ballare la discoteca. Ma non so, c'è tanta gente al Burghi, la Rinascente è piena, ma di giovani così non lo so, anche nelle vie c'è pieno di giovani che girano. Non so, non penso che ci sia un posto specifico, io penso che per i giovani tutto vada bene, per incontrarsi, per divertirsi. Cioè non ha importanza il posto, ma è più la compagnia. Andiamo a ballare, poi vediamo il Milan, il discoteca. Secondo me i ragazzi di Milano adesso si incontrano di più nelle strade, hanno capito il significato e il divertimento nel passeggiare, e quindi c'è più vita da questo punto di vista. E io faccio parte di questo gruppo. Usciamo fuori Milano, perché Milano è il locale su tutti pieni, quindi è possibile. Andiamo su i Navigli e beviamo un po', ascoltiamo la musica. Cerca qualche cosa di nuovo da vedere per le vetrine. Milano è visitata da moltissimi giovani provenienti...